Gagliani, vincere a Torino con la Juventus e a Milano con l'Inter è qualcosa di meraviglioso. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Al di fuori del premio Gianni Brera, Adriano Gagliani è stato intervistato dai giornalisti. Le sue parole raccolte da TMV, quello che sta accadendo quest'anno è incredibile. Vincere a Torino con la Juventus, vincere a Milano con l'Inter, è qualcosa di meraviglioso. Voglio ringraziare Silvio Berlusconi, è la persona che ha permesso che questo accadesse. La gioia è grande, stiamo dando un sogno alla nostra città. Può esserci qualcosa di importante nel futuro di Monza? Non lo so, godiamoci il momento. Nello spogliatoio, dopo aver vinto con l'Inter, ho subito detto ai ragazzi di pensare alla Fiorentina. Non abbiamo bisogno di darci obiettivi a lungo termine. Ora godiamoci questo momento meraviglioso. Avete notizie del presidente Berlusconi? Non l'ho sentito dai tempi dell'Inter, l'ho sentito durante la partita con l'Udinese. È un leone, lo amiamo molto, lo rifarà questa volta. La rivalutazione del calcio italiano? Sono ultra superstizioso, non dobbiamo parlarne lunedì sera, quindi forse il giovedì sera piangeremo. Riparliamone quando i tre giorni europei saranno finiti. In vista della partita di domani tra Napoli e Milano, senti questa tensione alla vigilia delle grandi notti europee? Credo di essere l'unico allenatore in Europa ad aver vinto la Coppa del Mondo C, B, Serie A, Champions League e Club. Provo la stessa gioia quando vinciamo, tanto meno le notti europee, pensiamo agli italiani che quest'anno sono stati fantastici. Rinnovo contratto per Palladino? Ci siamo tenuti per mano, lui rimarrà a Monza. Ogni volta che ho fatto una ristrutturazione in questi anni a Monza, c'era una cotta per il giocatore. Quindi ora non voglio fare il rinnovamento finché non ci sarà la salvezza matematica. Il futuro di Palladino non è in discussione. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla.